Il giorno di oggi è stato una giornata in cui si è dovuto stare sulla difensiva quest'oggi Sì, è stato una stagione più lunga ma molto intensa, quindi sì, è stato molto difficile Ha detto sì, è stata molto dura, una tappa più breve ma comunque molto intensa Come giudichi la tua performance? Non è la migliore ma non è troppo male dagli altri ragazzi All'inizio del giorno credo non è troppo male e continuiamo a combattere fino al fine Ha detto che tutto sommato non troppo male perché comunque ha perso qualcosa ma non tantissimo Ed è un mito comunque di poter combattere fino alla fine And what about tomorrow? Tomorrow there are different climbs, steeper climbs, but what can it mean for you? Cosa può significare che domani le salite saranno diverse e più ripide? Well, that's a good question, maybe I lose more time, maybe I don't lose time, you know We'll find out Okay, thank you very much How would you analyze what happened today? Because you lost a bit of time, but we know also that sometimes it's time to get into the pace What is that kind of thing or was it a harder day for you? I mean, I think it was pretty hard for me today, I wasn't feeling great, so yeah, hopefully my team did a perfect job and they could save some, yeah, save some gap from the other guys, especially Jay, so very thankful to the whole team and now yeah, let's see tomorrow